Un grande regalo alla sanità privata da parte della nuova giunta regionale. E questo l'attacco di Maurizio Cerbo, segretario nazionale di rifondazione comunista. Nel momento in cui si taglia, si taglia, si taglia la sanità pubblica, non si possono fare regali alla sanità privata. Mentre imperversano le polemiche sul riordino della rete ospedaliera, con una delibera passata nel silenzio generale senza nemmeno una conferenza stampa, la giunta Marsilio ha approvato una regolamentazione che andrebbe a vantaggio delle cliniche private. Questo silenzio ci preoccupa, perché questa è stata la regione di Sanitopoli. È vero che l'operatore che fu al centro dell'inchiesta adesso è fuori gioco, ma se le regole vengono cambiate, se le regole non ci sono, è più facile diventare peccatori. Dalla delibera emerge che le cliniche non saranno più obbligate a fornire dati giornalieri sui ricoveri e sulle dimissioni dei pazienti. Questione questa che potrebbe inficiare sulla trasparenza delle aziende sanitarie. Per le cliniche inoltre sarebbe prevista una normale oscillabilità del 20% del fatturato, senza che vi siano motivate esigenze o l'autorizzazione della ASL. E le stesse opposizioni, il PD e i 5 Stelle, non si capisce se condividono la delibera, non l'hanno letta, o semplicemente se sono distratti o sono complici, perché non hanno detto assolutamente nulla. Intanto sono destinate a non placarsi le polemiche sul nuovo piano sanitario presentato dall'assessore Nicoletta Verì.